Tappa a Villa Santa Maria del Traco, una vita da social della Polizia di Stato, Elisabetta Narciso, vicequestore e dirigente della Polizia Postale Abruzzese. Ecco, siamo qui per dire ai ragazzi cosa. Siamo qui nell'undicesima edizione di Una vita da social che gira in tutta Italia, fa tappa in Abruzzo, oggi a Villa Santa Maria, per dire che internet offre delle grandissime opportunità, ma esistono anche dei rischi. I ragazzi sono a volte inconsapevoli, forse sicuramente anche a causa dell'età adolescenziale, inconsapevoli quindi che esistono dei rischi, conoscerli, da loro la possibilità di poter affrontare meglio la navigazione che oggi offre tantissime opportunità in qualunque campo. Oggi per loro davvero una lezione particolare, hanno anche tanto entusiasmo questi ragazzi? Sì, c'è tanto entusiasmo, in più si è arricchito della lezione della Polizia Stradale, oltre che della Polizia Postale, e anche dei colleghi dell'OSCAD che parlano degli atti discriminatori. Quanto è importante la prevenzione che vi vede sempre in prima linea? La prevenzione è importantissima. Quando il legislatore ha pensato alla legge sul cyberbullismo, ha messo al primo posto la prevenzione, perché la prevenzione è il fondamento più importante per tutto ciò che avviene in internet. Qualunque cosa noi postiamo, se anche il legislatore ci dà la possibilità di oscurarlo e rimuoverlo, potrebbe essere già stato oggetto di un download da parte di qualcuno. E quindi è importante agire preventivamente e far capire ai ragazzi che prima di postare qualunque cosa, foto, video, immagini su internet, è bene pensarci un attimo. Diversi gli studenti coinvolti in questa iniziativa voluta dall'Istituto Marchitelli e dalla Fondazione Falcogno. Francesco Falcogno è presidente. Sì, abbiamo voluto questa iniziativa con tutte le nostre energie, ci siamo messi a disposizione nell'alberghiero, perché tra le finalità della nostra fondazione c'è proprio quella di sostenere gli studenti in qualsiasi fase del loro percorso. L'iniziativa che racchiude diversi istituti del territorio, da Casori, Pizzoferrato, Quadri e chiaramente Villa Santa Maria.